Ciao amici, vi parlo del villaggio di Babbo Natale da Spazio Verde a Terni, ma è grandissimo! Oltre 3.000 metri quadrati al coperto, con alberi, addobbi, presepi, articoli da regalo, oggettistica, ma quanta roba c'è! Il villaggio di Babbo Natale, Spazio Verde, Terni, strada Maratta Bassa, numero 91. Ovviamente la telefonata che lui ha ricevuto era oggettivamente la mia, perché comunque noi interagiamo giornalmente su tutte le dinamiche della società. Quando il Presidente mi ha detto la situazione, io per l'ennesima volta gli ho dovuto dire quello che stavamo vivendo. Ma questo non è un attacco politico o altro. La pernana calcio ad oggi è un SPA, ma in realtà è un SPA che non ha nulla, oltre che avere i giocatori. Il Presidente e noi riteniamo importantissimo avere alcune tipologie di caratteristiche che arricchisca questa società, tra cui il centro sportivo. Noi quando abbiamo fatto questa tipologia di offerta, non è stata un'offerta piovuta dal cielo. Come sempre fa la pernana calcio, interrompisce prima di poter andare a trattativa, quello che volevamo fare. È stata condivisa sia dal piano economico, è stata condivisa per tutta una serie di iniziative che mi aspettavo, ci aspettavamo, possiamo essere molto più rapida. Questa non vuol dire che sicuramente ci sono dei percorsi legittimi che devono fare. Tanto è vero che noi non ce l'abbiamo assolutamente con l'amministrazione comunale, che anzi spesso c'è una collaborazione. A fronte di questa cosa devo dire che ieri sera il Sindaco a ora tarda mi ha chiamato rassicurandomi che saranno tempi estremamente brevi, perché comunque anche loro capiscono l'importanza di questo progetto. Vorrei che con lo stesso entusiasmo per cui noi stiamo facendo queste cose, io da pernano capisco l'importanza, per me è molto più importante avere un centro sportivo che avere un calciatore che mi costa tanti soldi, perché comunque vogliamo far mettere, voglio, vogliamo far radicare e costruire qualcosa di veramente, veramente importante. Il Presidente quando decide di fare una cosa cerca sempre di farla di grande qualità, quindi nel momento in cui vogliamo fare zero speculazioni, noi ad oggi abbiamo sempre chiesto qualcosa che non è mai stato speculativo, dallo stadio, dalla clinica, dal centro sportivo, non vogliamo fare queste cose a fronte di quale tipologia di azione commerciale, noi vogliamo far crescere la ternana calcio anche a livello di infrastrutture, perché non dimentichiamoci che il primo vero grande problema per cui noi siamo costretti a cercare di fare un centro sportivo e perché mancano, mancano, dopo tutti questi anni, a Terni manca ogni tipologia di impiantistica sportiva, noi siamo costretti ad allenarci su un campo in erba sintetica di dimensioni molto più piccole di quello che è il campo della domenica. Quest'estate per cercare di trovare una soluzione siamo dovuti andare ad acqua sparta, ma io me lo ricordo, io vivo, ho fissuto, sono cresciuto in questa città, la ternana, è stato un problema di anni, di anni, e quindi sono certo che è fondamentale importanza questo e bisogna nelle leggi, in tutto quello, nella burocrazia, purtroppo che è incredibile sotto questo punto di vista, ma bisogna cercare di stare lì. Non è possibile che noi al 14 maggio, che abbiamo fatto la manifestazione di interessi, oggi è il 21 ottobre e ancora non abbiamo nulla di. La precedente conferenza stampa che avevate fatto era stata fissata anche a una data, mi sembra. Era stata una data che dava come limite massimo 30 giorni per sapere qualcosa, quindi anche in questo noi siamo stati estremamente elastici. Abbiamo bisogno però, ne abbiamo davvero bisogno. Sotto questo punto di vista abbiamo, noi io ho comuni limitrofi che mi stenderebbero, che mi stenderebbero tappeti rossi sotto questo punto di vista, ma io sono Ternano, voglio creare questa cosa nella mia città. È un bene talmente importante per la nostra città che è fondamentale che tutte le componenti, sempre assolutamente in maniera legittima, si infervolano in questo e cercano tutti di trovare una soluzione rapida. Non dico oggi per ieri perché comunque non è possibile quando magari, però nemmeno è possibile che dal 14 maggio ad oggi mi si rimanda da una parte, da un'altra. Questo secondo me è... Vi ripeto, non voglio costruire palazzi, non voglio costruire roba speculative, voglio costruire qualcosa che ci costa investimenti, tant'è vero, tant'è vero che l'offerta che noi abbiamo fatto per la terra è un'offerta che è al di sopra, assolutamente al di sopra secondo noi, di un valore reale del momento. Ma perché appunto il Presidente è la prima cosa che ha detto io non voglio creare problematiche di nessuna sorta per cercare di far snellire questo percorso, offriamo quello che magari è anche più del valore attuale di quel comprensorio. Ecco, ma sotto questo punto di vista vi ripeto, ieri sera ho ricevuto in orario anche tardi la telefonata del sindaco che mi ha rassicurato che questo sarà assolutamente tutto. E voglio crederci, voglio crederci, malgrado ho mille sirene nei posti di Mitrofi che cercano, anche perché è un rischio che mi prendo anch'io, perché magari il Presidente non è addio, ma perché stai aspettando tutto sto tempo, perché non vai da un'altra parte, perché Narni sta qua, San Gemini sta lì insomma. E quindi io sono Dernano e voglio che questa cosa si possa fare nella mia città. E quindi vorrei che poter realizzare questa cosa. Il villaggio di Babbo Natale, Spazio Verde, Terni, strada Maratta Bassa, numero 91.